Grazie di cuore agli operatori e operatrici della terapia intensiva di Alghero, la situazione è davvero difficile, con turni che alcune volte superano le 12 ore di lavoro, la maggior parte in zona rossa, completamente bardati e con l'impossibilità di idratarsi e usare i servizi. Tutto ciò 7 giorni su 7. Si è aperta con un ringraziamento la Commissione Sanità di ieri al Consiglio Comunale Algherese da parte del consigliere di minoranza Valdo Dinolfo, che ha iniziato il suo intervento ricordando i lavoratori che sono in prima linea nel reparto di terapia intensiva. Spesso la narrazione li ha definiti eroi, ed eroi lo sono davvero, perché per lavorare in queste condizioni bisogna esserlo davvero. Ma mi chiedo, ha continuato Dinolfo, come sia stato possibile che chi amministra la sanità in Sardegna sia così impreparato nella gestione della cosiddetta seconda ondata e per quale motivo la regione Sardegna in 4 mesi non abbia modificato il piano strategico di attivazione progressiva di strutture di aria critica su emergenza Covid-19, inserendo la terapia intensiva di Alghero in modo da utilizzare questo lungo periodo per creare i filtri e percorsi di sicurezza e reclutando personale adeguato alla mole di lavoro prevista. L'obiettivo di chi governa, ha concluso Dinolfo, dovrebbe essere la massima tutela dei cittadini e la sicurezza dei lavoratori, soprattutto di quelli in prima linea. A loro, ancora una volta, va un plauso pubblico e un abbraccio virtuale di incoraggiamento.